Buongiorno a tutti, mi chiamo Matteo Tolio, sono responsabile Sales Marketing Italia di Polartec. Siamo qui oggi nel nostro stand per presentarvi un nuovo capo di Beretta della collezione Shooting Spring Summer 20. Beretta in questo capo ha utilizzato due delle nostre tecnologie, Power Dry nella parte frontale della maglietta che ti mantiene asciutto e ha grande traspirabilità, mentre nella parte posteriore è stata utilizzata Delta che è la nostra cooling technology che ti mantiene fresco durante l'attività quando ci sono temperature alte. Queste due tecnologie messe assieme in questa maglietta danno il massimo comfort durante l'attività sportiva. Grazie a tutti.